Stare male è una cosa che capita spesso a tante persone e non piace. Eppure, qual è il motivo dello stare male? Io ti dico che se stai male succede perché lo permetti tu. Lo so, è un'affermazione forte e probabilmente non sei d'accordo, tuttavia voglio spiegarti le ragioni per cui arrivo a questa conclusione. Cominciamo con una domanda. Per quante cose una persona sta male? Sono molte. Una persona sta male perché soffre, c'è il dolore fisico, il dolore mentale. Una persona sta male perché desidera qualcosa che non ha, sta male perché viene contrastata violentemente, anche fisicamente. In tutti questi casi sembra che il dolore provenga dall'esterno. La persona è lì, starebbe bene da sola, ma dall'esterno arriva il dolore. Invece, in tutti questi casi, il dolore proviene dall'interno della persona. In quale modo? È proprio l'argomento di cui ti voglio parlare. Dentro di te alimenti il tuo ideale di vita, la tua visione, il tuo modo di concepirti. Ma non lo realizzi. Ecco l'errore. Pensare a uno stile di vita che poi non realizzi. Tu vivi pensando di voler essere, di voler fare, di volere avere qualche cosa di specifico, qualche cosa che ami, è giusto, è legittimo. Ti è evidente, sai che cosa vuoi, ma non lo fai. Ci pensi e non lo fai. Ecco l'errore. Pensandolo tu alimenti il tuo ideale, cioè tu hai ben chiara la tua idea di quello che vorresti essere. E così crei le premesse per il tuo dolore, perché ci pensi ma non lo realizzi. Pensi ad un solo ideale, inoltre. Non coltivi alternative. Tu dici che sarai felice soltanto se starai con una persona. Tu dici che sarai felice soltanto se vinci alla lotteria. Tu dici che sarai felice soltanto se continuerai a fare questo lavoro. Non sei disposto a fare un altro lavoro. Non sei disposto seriamente. Non metti in discussione il fatto che il lavoro che hai fatto sino adesso non è più richiesto dal mercato e quindi ti devi addestrare e inventarti un nuovo lavoro. Non hai alternative. Pensi a un solo ideale, vuoi essere soltanto in quel modo e così alimentando soltanto il tuo ideale crei le premesse per il tuo dolore. Parli soltanto la tua lingua, comunichi poco, non impari un'altra lingua e ti sembra che il mondo sia povero. In realtà il mondo è ricco di soluzioni, ma le dice in altre lingue. Tu non vuoi cambiare lingua, non vuoi imparare un'altra lingua e così crei le premesse per il tuo dolore. Hai poche abilità e dunque poche alternative. Quando ti sembra che dall'esterno ti arriva il motivo per desiderare qualcosa o il motivo per soffrire a causa di qualcosa, in realtà succede altro. Dall'esterno ti arriva lo stimolo che riattiva il tuo ideale di vita, il tuo unico ideale di vita senza alternative, il tuo ideale che per di più non realizzi, che nutri in te e stai male perché non lo realizzi e non hai alternative, come lo scolaretto che non studia e teme l'interrogazione, cioè stai male perché tu fai altro, tradisci te stesso e così tradendoti crei le premesse del dolore. Dall'esterno arriva la pubblicità che dice compra questo prodotto e tu che hai coltivato l'ideale di comprare ci stai male perché non puoi comprare il prodotto e non hai coltivato alternative per avere più reddito per comprare il prodotto se proprio ci tieni e siccome non hai alternative stai male. Ti sei intestardito in un comportamento come lo scolaretto che si intestardisce nel non studiare e poi la vita ti propone delle sfide ma tu non hai alternative come lo scolaretto e allora stai male, hai paura della vita, hai paura degli aumenti, non sai inventare delle alternative e in questo modo crei le premesse del dolore. Dall'esterno non arriva nulla se tu non lo raccogli e se lo raccogli è perché ti sei predisposto per raccoglierlo e per conservarlo a lungo dentro di te. Facciamo un esempio, l'insulto. L'insulto ti colpisce perché tu lo ritieni adatto a te come il tuo nome. Altre persone sentendo quell'insulto non si offendono perché hanno di sé un'altra immagine, un'altra considerazione ma tu invece hai di te la certezza di corrispondere all'insulto e allora raccogli l'insulto e così ci stai male. Se ti riconosci nel male perché lo permetti tu allora il male ti coinvolge. Vale anche se sei povero o con un difetto fisico. Tu stai male se ti convinci che la povertà e i difetti fisici siano un danno per te. Se non lo pensi stai bene. Ci sono persone povere che sono felici, ci sono persone che hanno dei gravissimi difetti fisici eppure sono molto più serene di altre persone che hanno un corpo sano. dipende tutto da te. Dipende da che cosa tu permetti. Dipende da che cosa tu coltivi. Dipende dalle alternative che tu prepari. Se tu non hai alternative, se ti riconosci nel male, allora il male ti coinvolge. Stai male perché lo permetti tu. Al prossimo episodio ciao